Raccolta differenziata intorno alla 70%, costi contenuti, uomini e mezzi gestiti dal comune. Siamo a Camigliano, in provincia di Caserta, un modello vincente. Ma ad inizio agosto ecco la beffa. Il sindaco Vincenzo Cenname è stato cacciato dal governo. La colpa del primo cittadino? Non aver rispettato la legge 26 che affida al nuovo ente provinciale la raccolta e la gestione dei rifiuti. Lavora al comune di Camigliano? Sono sicuramente utile. A vista hanno cacciato il sindaco? Sì. Mi dispiace. Perché? Perché d'altronde in Italia chi fa la cosa per bene non viene mai considerato. I lavoratori del consorzio ogni tanto stanno in sciopero perché non prendono lo stipendo. E qui invece? Qui invece a fine mese, giorno 27, tutto a posto. Andiamo in banca e ritiriamo i soldi. In provincia di Caserta, 28 comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, c'è anche la Buona Italia. Enti locali virtuosi, efficienti e al servizio del cittadino. Ma gli avuti problemi per i rifiuti, invece ci dobbiamo adeguare agli altri. Vincenzo Cenname, un ingegnere under 40, è il sindaco, anzi ex sindaco. Con decreto del capo dello Stato, su proposta del ministro Roberto Maroni, è stato infatti destituito dall'incarico. E' un schifo, che è un meglio sindaco che rapproche di Caserta. Come funzionava qua la rifiuti? Meglio di così non poteva andare. Quindi è un po' arrabbiato per la decisione. È bellissimo proprio, ingazzato si dice, ingazzato. Io ho quasi 80 anni, un sindaco che non abbia mai avuto un sindaco così gentile. Ha lavorato anche la domenica a tagliare l'erba in mezzo alla campagna, a pulire in mezzo alla strada per tenere il paese pulito. Poi arrivano gli altri, no, questo qua lo facciamo fuori. E che siamo qua? Siamo proprio in mezzo a una ghittatura, poi in mezzo siamo noi. Va bene, adesso cominciamo a buttare tutto l'amondezza in mezzo alla strada, come fanno tutti gli altri paesi. Un atto assunto in sette giorni, in nome della legge 26, quella che sancisce l'uscita dall'emergenza rifiuti della campagna. Una norma molto criticata che prevede che i comuni comunichino i dati e i registri affidando la discussione dal 2011 della tassa sui rifiuti ai nuovi enti provinciali. Il sindaco non ci sta. Il nuovo ente provinciale, infatti, è figlio del consorzio Napoli-Caserta e ancora prima del consorzio di Bacino. All'interno dei consorzi c'erano anche infiltrazioni camorristiche, quindi siamo stati ben lontani da queste persone e ne andiamo fiere come amministrazione. Ma la società provinciale non è altro che il frutto di questi consorzi. E la cosa più assurda è che oggi, parlo di qualche giorno fa, una delibera del consiglio provinciale di Caserta, a relazione dell'assessore all'ambiente, professore Arena, dichiara che la legge 26 va cambiata perché la gestione deve rimanere in capo ai comuni, così come dicevo io cinque mesi fa. Per cenna me il ministro Maroni ha usato la mano pesante su indicazione del prefetto. Il sindaco non vuole cedere, affidare la gestione all'ente provinciale significa un aumento certo della tariffa per i cittadini di Camigliano. pagherebbero i debiti contratti dal consorzio in anni di gestione clientelare. Mi meraviglia il silenzio assordante anche dei comuni più grandi perché il piccolo comune poi un'entrata così non incide sulla capacità di indebitamento di un ente mentre per un comune grande significa sottigliare la capacità di indebitamento e quindi avere meno possibilità di contrarre eventuali mutui per la crescita delle comunità. Quindi è assurdo che una comunità più grande non fa rilevare questo. E poi non c'è più il rispetto del patto di stabilità perché diminuendo le entrate si assottiglia anche la soglia del patto di stabilità. Le preoccupazioni del sindaco sono giustificate e il consorzio da cui nasce l'ente provinciale ha fatto assunzioni clientelari. L'ex direttore Antonio Scialdone è stato anche indagato per promozioni sospette nel periodo elettorale, competizione nella quale la moglie era candidata in una lista a sostegno di Stefano Caldoro. Quando il decreto 26 avrebbe dovuto congelare la situazione, fotografare la situazione esistente, verificare gli esuberi che ci sono, purtroppo sono tanti fra Napoli e Caserta e in tutta la regione Campania, in quel consorzio si sono continuati a dare premi incentivanti, molto discrezionali, passaggi di categoria all'interno del consorzio e si sono fatte assunzioni ancora nel corso del 2010. Non solo con la nuova normativa sui servizi pubblici, i privati sono pronti ad entrare nell'ente provinciale con il rischio di nuove infiltrazioni della malavita. La preoccupazione è che quello che si vorrebbe cacciare dalla finestra, cioè, insomma, la camorta al ciclo dei rifiuti potrebbe rientrare di nuovo con l'ingresso dei privati all'interno della società provinciale. La legge 26 spazza via ogni logica federalista. Le tasse sui rifiuti vanno all'ente provinciale e non più ai comuni che perdono ogni autonomia finanziaria e gestionale nella partita dei rifiuti. Il sindaco Cenname promette battaglia, si dice amareggiato ed evoca un precedente. Maroni non scioglie il Consiglio Comunale di Fondi con infiltrazioni camoristiche acclarate, beh, ma rimuove un sindaco che fa il 65% di raccolti differenziati e non condivide una legge senza istruzionarla, perché sostanzialmente poi alla fine i dati loro li hanno avuti. Fondi il comune del Sud Pontino colluso e salvato dopo un anno di tira e molla. Per Camigliano invece nessuna pietà. Sindaco rimosso in sette giorni. In nome della legge e alla faccia del federalismo. In nome della legge e alla faccia del tercino. La legge e alla legge e alla faccia del tercino. La legge e alla legge. Per Camigliano invece nessuna pietà.